Lezioni di territorio dedicate agli operatori del settore turistico perché lo conoscano sempre meglio e lo possano promuovere sempre meglio. Noi siamo seduti su una miniera d'oro, dobbiamo cominciare a valorizzarla, valorizzarci per valorizzare il territorio. Noi dobbiamo formare gli operatori nostri perché è corretto che siano in grado poi di trasmettere e la scelta di questi territori credo che veramente vada ad ampliare l'offerta che possiamo dare per i turisti che arrivano da fuori provincia. Come si articoleranno queste lezioni? Saranno suddivise in sei lezioni che inizieranno appunto dal 13 di maggio e si estenderanno fino a luglio su percorsi diversi che toccheranno dal centro di città alla provincia in itinerari che saranno gestiti e guidati attraverso gli operatori di turismo Bergamo che guideranno i nostri imprenditori, 50 imprenditori che sono previsti all'interno di queste lezioni in questi percorsi, in questa conoscenza dei territori.